buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi vorrei parlarvi di uno dei miei mazzi di tarocchi voi sapete che io ho la collezione di mazzi di carte da divinazione di tarocchi che mi piacciono tantissimo quindi ne ho tantissimi tipi magari se non avete visto il video che avevo fatto proprio all'inizio quando ho aperto il canale in cui vi mostravo un pochino tutti i miei mazzi da collezione ve lo lascio magari nelle schede così potete andare a vederlo oggi ho scelto di parlarvi dei tarocchi dei visconti quindi i tarocchi dorati dei visconti perché sono tarocchi che sono molto utilizzati però dei quali non parlo quasi mai quindi ho pensato di mostrarveli di farveli vedere e di raccontarvi un pochino la loro storia innanzitutto sono dei tarocchi molto antichi molto prestigiosi conosciuti anche come tarocchi dei visconti sforza perché sono stati realizzati per francesco sforza e sua moglie bianca maria visconti quando salirono appunto al potere a milano nel 1450 quindi loro si erano fatti realizzare questi tarocchi che sono stati dipinti a mano con delle tempere colorate poi ricoperti con una sottile lamina d'oro zecchino infatti tenete presente che il mazzo originale quello del 450 che non è quello che ho io ovviamente ma quello originale aveva un valore pari a quello di un appartamento nobiliare dell'epoca quindi pensate quanto valevano queste carte innanzitutto vi faccio vedere le carte come potete notare sono più grandi delle carte classiche quindi rispetto ai tarocchi classici questi hanno una dimensione assai più grande e sono particolari perché essendo stati appunto restaurati con questa tecnica di doratura se voi guardate la carta in base all'inclinazione coglie delle sfumature di luce molto diverse quindi ci sono veramente dei giochi di luce incredibili su queste carte perché a seconda dell'inclinazione addirittura appare di vedere delle carte diverse tra di loro i personaggi sono tutti vestiti con abiti d'epoca alcuni sono abiti che possono essere adatti per il clero altri sono abiti adatti più per il popolo e altri sono abiti nobiliari quindi sicuramente questa la particolarità di queste carte ma non solo perché queste carte comunque quando sono state realizzate appunto per i visconti sforza avevano nella loro simbologia nel loro significato qualcosa di veramente particolare perché per i visconti queste queste carte erano una mappa delle virtù morali ogni immagine era una guida per l'intelletto che doveva attraverso appunto l'intelletto e l'intelligenza raggiungere quello che era giusto infatti in queste carte sono ben rappresentati gli archetipi che sono appunto dei modelli primordiali presenti in tutte le culture nelle diverse culture e la particolarità è che ogni immagine si collega simbolicamente ad una visione religiosa del mondo ad esempio la papessa che è questa la papessa rappresenta la fede quindi queste carte sono veramente molto molto particolari anche da utilizzare in una stesura perché si collegano appunto simbolicamente a questa visione del mondo un pochino più religiosa però questo non è non deve essere un limite per i principianti perché i principianti che utilizzano queste carte possono intanto allenare l'intuizione che è una cosa che nell'interpretazione dei tarocchi è fondamentale quindi allenare l'immaginazione l'intuizione e magari provare a scrivere per ogni carta i significati che vi vengono in mente i collegamenti simbolici che vi vengono in mente e sicuramente possono essere un buono studio perché essendo dei tarocchi così antichi vi mostrano bene qual è stata l'evoluzione delle diverse carte quindi nel tempo c'è stata un'evoluzione dei tarocchi questi sono uno dei mazzi più antichi e se voi osservate questi e poi andate ad osservare tutti quelli che ci sono stati dopo voi potrete potrete studiare bene qual è stata l'evoluzione del disegno appunto dei tarocchi quindi chi ha disegnato i tarocchi ha sempre aggiunto qualche elemento diciamo evolutivo qualche elemento di restauro quindi è sicuramente uno studio interessante da fare questi tarocchi inoltre possono essere associati all'epoca del rinascimento che è quel periodo storico in cui sono rinate appunto come dice il termine le arti la scienza la filosofia dopo il buio del medioevo c'era stata appunto questa rinascita per questo si chiama rinascimento e queste carte vengono proprio associate al periodo storico del rinascimento quindi diciamo che sono delle carte molto utili per lo studio per lo studio dei tarocchi perché ci sono questi collegamenti appunto con periodi storici particolari collegamenti con i simboli religiosi e quindi se volete studiare i tarocchi magari in modo un pochino più approfondito un pochino più evoluto sicuramente i mazzi il mazzo dei tarocchi dei visconti è da avere in casa da osservare da studiare da da guardare bene e soprattutto da utilizzare per allenare l'intuizione come dicevo prima vi volevo anche dire una piccola curiosità inizialmente il mazzo originale era composto da 74 carte che nel tempo sono state diciamo sparse un pochino qua e là in che senso nel senso che oggi sono è ancora possibile vedere alcune di queste carte in versione originale che hanno veramente un valore inestimabile ma è ancora possibile vederle perché ci sono dei luoghi in cui sono esposte queste carte però non le troverete tutte 74 insieme ma bensì sparse un pochino qua e là infatti all'accademia carrara di bergamo ci sono 26 carte a new york al pierpoint morgan library ci sono 35 carte e nella collezione privata della famiglia con leoni ci sono 13 carte quindi volendo si possono anche vedere quelle originali io personalmente non sono ancora andata a vedere quelle originali ma è uno di quei viaggi che sicuramente nel corso della mia vita farò quindi sicuramente andrò prima o poi in uno di questi tre luoghi a vedere quelli originali per adesso mi devo accontentare di questi acquistati su internet e assolutamente ben lontani dagli originali però sono comunque carte molto molto belle e sono contenta che facciano parte della mia collezione io mi fermo con questo video vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate di queste carte se magari le avete anche voi se le utilizzate per fare le stesure oppure se non le utilizzate se vi piacciono perché ad alcuni non piacciono perché sono più grosse io vi do appuntamento al prossimo video vi mando un bacio enorme mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto vi aspetto alla prossima